Arrestati per concorso, intentata rapina aggravata. Questo il risultato ottenuto dai carabinieri di Rimini che dopo diversi appostamenti, pedinamenti ed intercettazioni hanno potuto mettere alla sbarra tre pregiudicati, un 41enne residente a Viserba e due ventenni, tutti napoletani. I tre avevano deciso di colpire una gioielleria comprooro di Viale Giangi a Rimini e per un soffio non sono riusciti nel loro intento che gli avrebbe fruttato oltre 100.000 euro. Importante il ruolo del 41enne che si poneva come vero e proprio basista della banda indicando agli altri due i migliori luoghi da colpire e svaliggiare. Effettivamente il progetto criminoso era in corso, ringraziando Dio, diciamo, la negoziante, il titolare del giornale del Nia Oro aveva chiuso la porta riservandosi di aprire a breve per chi stava sistemando dei reottori preziosi da esporre naturalmente nel negozio. Nel contempo i due benchie attivati dal terzo personaggio che era lì in fase di osservazione sono arrivati in ritardo, hanno dato una spinta violenta alla porta che per fortuna non ha ceduto e quindi mentre facevano il giro per poi rientrare all'interno della gioielleria che sono stati boccati dai militari del nucleo investigativo. Al momento non sembrano esserci collegamenti tra i tre arrestati e i recenti furti nelle ville del Riminese.